Allora, il DMA non sto a rispiegarvelo, naturalmente lo conosciamo, Digital Markets Act. Sono passate tre settimane da quando la Commissione Europea, anzi da quando il DMA è entrato in vigore in Europa e adesso c'è l'annuncio lunedì, quindi proprio due giorni fa, che ci sono tre investigazioni su tre dei sei gatekeeper che erano stati identificati e sono Apple, Google e Meta. Sapete che avevano trovato sei gatekeeper e quindi tre sono sotto investigazione. Apple, Google e Meta. Apple dovrà provare che le modifiche che ha fatto all'App Store e alle opzioni di utenti per allontanarsi dai setting di default sono sufficienti per essere compliant con la DMA. Quindi mi pare in questo caso una investigazione abbastanza basic, cioè loro hanno fatto le change e adesso devono investigarsi queste change e effettivamente sono compliant con la DMA. C'è un'investigazione sulle regole dell'App Store nuove di Google e anche su pratiche shady, sarebbe un po' oscure, ombrose. Pratiche ombrose che fanno preferire i propri servizi come Google Shopping e Hotel nei search result. Questa praticamente è un'investigazione su... non mi ricordo chi l'aveva portata alla luce questa tematica. In pratica quando tu cerchi una cosa su Google, i risultati che hanno più evidenza, spesso negli snippet, eccetera, sono proprio quelli dei servizi di Google. Per esempio se tu cerchi qualcosa di shopping, insomma di comprare qualcosa, ci sono Google Shopping che va su, può essere Google Hotels, Google Flights, queste cose qua, no? Qualcuno ha detto questa roba qua non si può fare perché è un sfruttamento... l'antitrust non può essere d'accordo con questa roba, è un sfruttamento di un monopolio, di una posizione monopolista. E quindi adesso c'è un'investigazione su questo. Dopodiché c'è un'investigazione sull'opzione Subscription for No Ads di Meta. Permette agli utenti di Facebook e Instagram di fare opt-out dagli ad personalizzati, targettizzati, pagando una fee mensile. Questa roba qua forse, forse non è compatibile con il DMA. Anche se Meta va a tagliare questo fee mensile del 50%, potrebbe essere non compliant. Sapete che Meta di recente, per provare a essere compliant con il DMA, ha fatto questa roba di mettere un abbonamento mensile. Perché tu paghi l'abbonamento, allora non vedi gli ad in app. Ma forse questa roba non è compliant con il DMA. Allora, cosa ha detto Thierry Breton? Ha detto, il DMA è molto chiaro. I gatekeeper devono ottenere lo user consent, cioè il consenso dell'utente, per usare i propri dati personali attraverso diversi servizi. E questo consenso deve essere free, deve essere gratuito, deve essere gratuito e libero. Quindi in totale la Commissione Europea ha annunciato 5 investigazioni. 2 contro Apple, 2 contro Google, 1 contro Meta. Dice Margrethe Vestager, che è il capo dell'antitrust, la capo dell'antitrust, dice Sospettiamo che le soluzioni suggerite per essere compliant con il DMA, portate avanti da queste tre compagnie, non siano completamente compliant con il DMA stesso. E ha ordinato alle aziende di mostrare dei documenti che sono critici per appunto portare evidenze, portare delle prove evidenti a questo assessment, quindi a questa investigazione. L'investigazione della Commissione Europea si concluderà circa in un anno, entro quest'anno. Se le tech companies vengono scoperte come non compliant, rischiano multe fino al 10% del totale del turnover mondiale. Quindi del totale dei ricavi mondiali. Ecco, 10% sarebbe una cifra ovviamente gigantesca. E ogni volta che ripetono le violazioni, questa multa aumenta fino al 20% del mondiale, neanche europeo, proprio dei ricavi mondiali. E inoltre, in caso di violazioni sistematiche, la Commissione potrebbe anche rincorrere a misure addizionali come obbligare i gatekeeper a vendere un intero business o parte del business e impedirgli di fare ulteriori acquisizioni per prendere ulteriori servizi che lo rendano ancora di più non compliant in maniera sistemica. Quindi potrebbero chiedere a questi qua di smembrarsi praticamente. Se alcuni di questi servizi messi, presi insieme, vengono ritenuti non compliant con il DMA, la Commissione Europea potrebbe chiedere di smembrarli, di venderli. Potrebbero chiedere di vendere alcune cose. Che tra l'altro è una cosa che sta facendo anche gli Stati Uniti con Apple. Mi pare che ci stiano chiedendo di... Mi pare che ci sia un'investigazione in corso dell'antitrust americana contro Apple per questioni di interoperabilità tra i device. Per esempio gli Apple Watch che non sono interoperabili con Android potrebbero chiedergli di smembrare la business unit degli Apple Watch o di venderla addirittura. Spero di... insomma... Non credo che si arriverà a questo. In aggiunta alle investigazioni su Apple, Google e Meta la Commissione Europea sta scrutinando la struttura delle fee per l'App Store per gli App Store alternativi di Apple che era ovvio che l'avrebbero fatto e sta mandando dei retention order a Amazon e Microsoft. Io non so cosa siano retention order quindi ha mandato dei retention order a Amazon e Microsoft. Questo rende ByteDance l'unico gatekeeper a sfuggire agli step interrogatori. ByteDance è la società che possiede TikTok. Quindi l'unica che sfugge da questa investigazione è ByteDance mentre l'Unione Europea sta cercando di rinforzare gli standard stringenti del DMA mentre ByteDance continua a contestare il suo status di gatekeeper. ByteDance non ritiene di essere gatekeeper. Cosa dici Fabiano? Sono obbligati a conservare della roba? Non lo so, non ho capito. Ah, forse devono conservare i documenti che provano... Certo, non possono disfarsi dei documenti che potrebbero essere prove a sostegno dell'investigazione dell'Unione Europea. Potrebbe essere questo. Allora, dice Breton, Thierry Breton ci sono casi in cui abbiamo già delle prove evidenti di possibili non-compliance possibili non-compliance e questo in meno di 20 giorni dall'implementazione del DMA ma il nostro lavoro di monitoring, di monitoraggio e di investigazione non si ferma qui, dice Breton potremmo aprire altri casi di non-compliance molto presto. Google e Apple hanno entrambi insomma mandato delle dichiarazioni per difendere i loro piani di compliance con il DMA e dice il direttore della competizione in Google che si chiama Oliver Betel ha detto a Ars Technica qui siamo su Ars Technica ha detto per essere compliant con il Digital Markets Act abbiamo fatto cambiamenti significativi al modo in cui i nostri servizi operano in Europa e inoltre ha promesso di continuare a difendere il nostro approccio nei prossimi mesi. Vabbè, i cambiamenti li abbiamo visti in qualche podcast precedente sapete anche che si può andare adesso su Google Search o su YouTube a scollegare i vari servizi Google che hanno i vostri dati tra di loro in modo che quello che fate su YouTube non venga preso dagli ad che vi vengono mostrati in Gmail o in Search cioè potete staccare come si può fare anche in Meta, no? in Facebook, Instagram e così più ci sono altre cose più ci sono altre cose su Android eccetera eccetera poi dice siamo confidenti che i nostri piani siano compliant con il DMA e continueremo a costruire insomma a parlare con la Commissione Europea mentre loro conducono le loro investigazioni questo l'ha detto una portavoce di Apple quindi i vari team all'interno di Apple hanno creato un vasto panorama di feature per gli sviluppatori e anche di tool che rendono queste robe compliant con la legge, la regolamentazione allo stesso tempo abbiamo introdotto delle protezioni che ci aiutano a ridurre i rischi per la privacy per la qualità e per la sicurezza dell'esperienza utente degli utenti dell'Unione Europea questo dice Apple inoltre abbiamo dimostrato flessibilità e responsiveness come si traduce responsiveness? velocità di risposta responsività alla Commissione Europea e agli sviluppatori ascoltando e incorporando i loro feedback mmm mi permetto di dubitare di obiettare a questa cosa perché quando hanno presentato le loro mosse gli hanno tutti detto che cazzo state facendo non si fa così basta che leggete le dichiarazioni di Mozilla di Epic Games di del buon di HH non penso che non mi pare che li abbiano ascoltati anche la fee che hanno messo la la Core Technology fee che hanno messo che si paga un euro 50 centesimi a installazione di app oltre app oltre milioni di app installate è una follia un portavoce di Meta ha detto a Ars che Meta ha creato il piano subscription for no ads quindi ti iscrivi per non avere gli ads per appunto rispondere alle varie obbligazioni della legge inclusi incluso il DMA e promette di essere compagliato con il DMA mentre dicendo che le subscription come un'alternativa all'advertising sono un modello di business ben stabilito in molte industrie dice Meta che non lo so in realtà mi pare che sia il contrario cioè che in molte industrie sta venendo fuori che gli utenti si sono rotto il cazzo del dell'ad scusate che il contrario che le aziende si sono rotte il cazzo delle subscription a basso costo e gli hanno infilato l'ad e gli utenti siccome si rompono il cazzo a loro volta di vedere gli ad devono pagare di più rispetto ai loro piani come succede in Prime Netflix Disney Plus no sai il piano ad che ti hanno infilato così a tradimento tu devi pagare di più per non vedere gli ad ma non li vedevi prima quindi mi sembra un po' il contrario di quello che dice Apple l'annuncio della commissione europea arriva è arrivato dopo che tutti i gatekeeper designati erano stati costretti a mandare tutti i report di compliance al DMA e discutere pubblicamente in workshop la loro attività di compliance con il DMA questi workshop si concludono domani domani significa il 26 quindi ieri si concludono domani con Microsoft e sembra che questa roba qua è proprio quello che sta guidando la decisione di andare a fare investigazioni su Apple Google e Meta quindi apparentemente dopo aver parlato è dopo aver parlato con questi con i vari gatekeeper che stanno venendo fuori queste investigazioni gli stakeholder stanno fornendo del feedback sulle soluzioni di compliance offerte ha detto la Vestager e questi loro feedback ci dicono che alcune misure prese appunto per essere compliant non riescono a raggiungere gli obiettivi proprio falliscono a raggiungere gli obiettivi e le expectation quindi le aspettative del DMA qua ci sono alcuni dettagli investigazione sugli app store di Apple e Google quindi dice la Vestager con il DMA i gatekeeper non possono impedire ai loro business di informare gli utenti che ci sono delle soluzioni più economiche fuori dall'ecosistema di gatekeeper per le app come succedeva con gli abbonamenti a Spotify l'abbonamento a Spotify acquistato via web costa di meno dell'abbonamento a Spotify acquistato in app ma Apple non permetteva a Spotify di informare gli utenti dell'esistenza di questa opzione più economica questa violazione si chiama anti-steering ed è impedita dalla legge dal DMA gli stakeholders hanno detto alla Commissione Europea che Apple e Google hanno messo in piedi questa struttura di pagamenti di fee che va contro il requirement del free of charge del DMA ha detto la Vestager perché queste compagnie ancora in realtà mettono delle varie fee e vari limiti appunto e queste cose qua impediscono lo steering questo feedback ha pinto la Commissione Europea a lanciare due investigazioni contro Apple e Google investigheremo se queste fee queste limitazioni vadano proprio contro gli obiettivi dell'anti-steering e quindi limitino la scelta possibile dei consumatori queste investigazioni non sono non vogliono dire che Apple non può fare gli store alternativi nell'Unione Europea inoltre Breton ha detto che ci sono molte domande sul nuovo business model di Apple per le App Store tra queste ci sono sul processo che Apple usa per concedere o terminare la membership nel developer program e questo viene dopo lo scandalo di Epic Games se vi ricordate Epic Games aveva creato il suo cioè aveva il suo developer account che devi pagare ogni anno a Apple per essere per permetterti di creare software per Apple di pubblicare sugli store Apple gli aveva interrotto proprio unilateralmente e questo aveva creato un po' di un po' di discussioni quindi qua si parla di come grant e terminate delle membership e inoltre abbiamo delle domande sulla struttura di queste fee e su tanti altri aspetti del business model questo ha detto ha detto Breton per vedere se questi costituiscono delle vere opportunità per gli sviluppatori di App in linea con lo spirito del DMA qui c'è un altro paragrafo dice Apple rende alcune app ininstallabili non disinstallabili uninstallable non so come non installabili vabbè il DMA dice il post dice la news il DMA chiede al gatekeeper di rendere facile il processo di disinstallazione delle app e del cambiamento dei setting di default e questi sono obblighi che pare che Apple stia evitando ha detto la Vestager infatti Apple sta schivando le responsabilità del DMA in due modi prima di tutto il web browser choice screen quindi proprio la scelta del browser di default di Apple è disegnata strutturata in un modo che non mostra tutte le opzioni disponibili e quindi priva gli utenti finali dell'abilità di prendere una decisione completamente informata quindi non dare una descrizione di tutte le opzioni disponibili in dettaglio così l'utente finale non sa bene cosa andare a scegliere cosa andare a fare se vuole cambiare Safari come browser web di default e inoltre è difficile non avere iCloud come opzione predefinita per sincronizzare i dati questo lo sanno bene tutti gli utenti di Apple e inoltre la seconda cosa Apple non permette o rende molto difficile disinstallare alcune app e questo succede anche con Windows in Microsoft cioè alcune app di default insomma è un po' difficile disinstallarle per esempio qua c'è l'esempio di Photos vabbè Meta costringe gli utenti al pay or consent quindi a pagare per la subscription oppure consentire al condivisione dei propri dati per avere le pubblicità e quindi c'è il modello Meta subscription or no ad che è sotto investigazione per non compliance potenziale sotto il DMA e questo non costituisce una sorpresa perché il consenso dovrebbe essere libero dovrebbe essere dato liberamente non a pagamento cioè io devo poter decidere cosa dici Fabiano un-uninstallable esatto cioè devo poter disinstallare e non me la fanno disinstallare per gli utenti dell'Unione Europea per evitare di condividere i propri dati per il targeting delle ad Meta ti chiede 9,99€ al mese oppure 12,99€ al mese su iOS Android qua si paga un po' di più perché poi bisogna pagare la fia Apple con una fia addizionale di 6€ al mese sul web e 8€ al mese su iOS Android per ogni account addizionale vabbè Breton ha detto che questa investigazione è stata lanciata perché la commissione ha seri dubbi che questo consenso sia davvero free ma va ma va 6i dubbi di Breton e della commissione ha suggerito che Meta potrebbe invece fornire un modello alternativo basato su contextual advertising che permetterebbe agli utenti di accedere a Facebook e Instagram senza condividere i propri dati o pagare una subscription fee cosa vuol dire contextual advertising non lo so qualche esperto di SEO c'è un esperto di SEO e non so cosa vuol dire contextual advertising allora questa news non è totalmente male per Apple perché anche se questo subscription model di Meta è sotto investigazione per il prossimo anno la commissione europea ha annunciato che c'è un'estensione garantita a Meta per 6 mesi per essere compliant con gli obblighi del DMA che richiedono che Facebook e Messenger sia interoperabile con altri servizi di messaggistica quindi vabbè Meta ha un'estensione di 6 mesi ha altri 6 mesi per rendere Facebook Messenger interoperabile con gli altri servizi di messaggistica l'ultimo paragrafo riguarda invece Google Google che è sospettato di preferire se stesso nelle ricerche come come gli sarà venuto questo sospetto a Terry Breton non gli sfugge nulla quindi infine uno dei pilastri del DMA ha detto Breton è la proibizione della self-preference quindi della preferenza di se stesso che sembra che Google violi sembra siamo ancora dobbiamo capire quindi secondo Breton Google potrebbe abusare il suo potere di promuovere i propri servizi a spese dei propri rivali mettendoli praticamente dandogli più peso nei risultati di ricerca dice Fabiano menziona Facebook Messenger ma non Whatsapp perché Whatsapp in realtà dovrebbe essere dovrebbe avere già presentato i piani di compliancy cioè credo che abbiano presentato un piano per rendere Whatsapp interoperabile già con gli altri servizi quindi in teoria mi sa che se questa roba passa presto potremo messaggiare da Whatsapp anche con Signal o con Messenger o con altri servizi di messaggistica però mi pare che ci sia un piano per questo poi perché non si vede quello che scrivi? non lo so dice secondo Breton vabbè l'abbiamo già visto però questa roba qua si applica a tutti cioè io che tu nel tuo cioè che le compagnie nei propri servizi di ricerca privilegiano i propri prodotti mi sembra che sia una roba lo fa pure Amazon sul sul marketplace lo fa Microsoft su Bing insomma mi pare che dovrebbe essere un po' globale questa roba Breton ha detto che la commissione europea è preoccupata che i servizi di Google incluso Google Shopping Google Flights Google Hotel beneficino di un di un trattamento preferenziale eh mentre sembra che i servizi di terze parti non sono trattati in una maniera fair quindi vabbè pari e non discriminatoria davvero non vi sfugge niente la commissione europea ha iniziato simili investigazioni ah vedi anche Amazon anche su Amazon sulle preferenze di Amazon sul suo marketplace meno male sono accorti anche che su Amazon c'è una certa preferenza dei propri prodotti sul marketplace quindi dice Breton l'Amazon Store non ha un impatto diretto soltanto sui rivenditori i retailers e i service provider ma anche su milioni di consumatori e quindi è cruciale che Amazon sia compliant con il DMA contro la self preference e vediamo quindi c'è un'investigazione anche per la self preference di Amazon e vediamo un po' come finisce come finirà questo era un po' eh per il DMA ci sono queste le investigazioni eh si dovrebbero concludere domani perché c'è il workshop con Microsoft oggi quindi magari verrà fuori qualcosa di nuovo o magari delle multine eh gli dia una bella multina com'è che faceva Giacomo no? gli dia una bella multina vediamo che cosa faranno grazie a tutti